Tra le nostre cerniere certificate CE vediamo come si regola la K7080. Per la regolazione verticale allentiamo queste viti di blocco su tutte le cerniere. Procediamo dalla cerniera superiore ruotando questa vite. Ripetiamo su tutte le cerniere fino ad ottenere le luci orizzontali corrette. Serriamo infine tutte le viti di blocco. Per la regolazione orizzontale ruotiamo queste due viti compiendo lo stesso numero di cili su entrambe. Passiamo poi alla cerniera successiva e regoliamo fino ad ottenere le luci verticali corrette. Per la regolazione di profondità allentiamo queste due viti di blocco su tutte le cerniere. Ruotiamo in seguito queste due viti di regolazione. Ripetiamo la regolazione su tutte le cerniere fino ad allineare il pannello alla parete. A regolazione ultimata procediamo bloccando tutte le viti. A regolazione ultimata applichiamo le mostrine di copertura. Ecco la resa estetica di una regolazione ottimale. Tutte le regolazioni possono essere effettuate con la chiave a brugola in dotazione. Ricordate, una perfetta regolazione fondamentale per un funzionamento efficace nel tempo.